Eccoci qui, ben ritrovati amici rossoneri di nuovo, buona domenica da Milanello, il canale su YouTube di riferimento per chi ha il Milan nel cuore, iscrivetevi qui e lasciate tanti like qui sotto, se vi iscrivete qui è gratuito ovviamente, 65500, road to 100000, che bella domenica, guardiamo e riguardiamo la classifica, la voce la sto riacquisendo, ci siamo risvegliati primi, meritatamente primi, vedremo oggi come andrà, in ogni caso è un gruppo straordinario che merita tanti tanti complimenti, che personalmente mi rendo orgoglioso ma credo che valga un po' per tutti, questa mattina, e adesso vediamo anche la bellissima notizia, questa mattina mi sono sentito anche con gli amici di Milanello e ho detto una cosa, incitiamo questi ragazzi, meritano di essere incitati dall'inizio alla fine, a maggior ragione perché può essere davvero l'anno buono, c'è bisogno di tutti, di chi va allo stadio, di chi sta a casa, di chi iscrive sui social e dico che le critiche ci stanno, ogni tanto per carità, ma bisogna andare avanti tutti uniti nella direzione giusta che ci può portare davvero a toglierci grandi, grandi, grandi soddisfazioni allora, che dire, è sicuramente un turno favorevole perché abbiamo guadagnato tre punti sulla seconda squadra di Milano e possono essere molto importanti, visto che noi vivevamo anche una situazione di emergenza eravamo sotto di due gol, sicuramente recuperiamo punti su almeno, o meglio, guadagniamo punti su almeno una tra Juve e Roma, magari tutte e due, poi vediamo cosa fanno anche le altre adesso testa la Champions League, ma con grande orgoglio, andiamo sulla bellissima notizia, prima avete visto in copertina Castilleco e non solo Castilleco, mi voglio togliere qualche sassolino, Castilleco che dice non mi voleva neanche mia mamma, oggi esulto a casa mia, contento per i tre punti e scoppie lacrime, lacrime che sono simbolo di abnegazione, di attaccamento alla maglia di impegno, professionalità e sofferenza per quella maglia non è da tutti, ci sono quelli che stanno fuori e se ne fregano lui si è messo a disposizione, molti tifosi lo avevano addirittura insultato avevamo fatto anche quel video a fine mercato perché volevano spingerlo ad andare via e devo dire che invece, insomma ragazzi, è un grande, è un grande, è un grande gli abbiamo fatto arrivare anche i vostri messaggi in quel famoso video di fine mercato lui poi è bello che vuole baciare la maglia, vuole far vedere lo stemma però sulla terza maglia non c'è lo stemma e allora alla fine mostra la scritta Minam bellissimo anche quando cercava lo stemma alla fine, bellissimo, l'ho pubblicato nell'anteprima di questo video, nella copertina i giocatori che lo sovrastano lui che sui social scrive, sì, sotto questi animali c'ero io, famiglia famiglia è il concetto di questa squadra può non essere la squadra più forte da un punto di vista tecnico rispetto al Milan che ci ricordiamo nella storia del Milan? Probabilmente sì ma è una squadra che ha nel gruppo una forza incredibile, è un gruppo straordinario dal primo all'ultimo, quell'ultimo che poteva essere Castilleco che invece ha una valenza importante, è entrato e poi parliamo anche dell'altro, della bella notizia vi voglio soltanto leggere i numeri i numeri, ha toccato 28 palloni ha fatto 11 passaggi, azzeccati 11, 100%, 5 cross si è procurato comunque un calcio di rigore ha poi, andiamo a vedere, bloccato una palla, intercettate 2 ha fatto un take, numeri che identificano una prestazione gagliarda ha entrato davvero bene, a correre su ogni pallone alla fine il calcio di rigore se lo ha procurato e alla fine ha propiziato anche con quella palla buttata in mezzo il calcio di rigore devo dire che ha avuto un approccio straordinario e noi vogliamo 11 Castilleco quando entrano in campo devo dire che rispetto a tanti che magari guardano i soldi ce ne sono diversi lui è uno che quella maglia l'ha onorata dall'inizio alla fine, non so quando sarà la fine ma lo onorerà dall'inizio alla fine e chi lo ha criticato, chi lo ha insultato soprattutto addirittura c'è chi è arrivato a minacciarlo deve vergognarsi e gli deve chiedere scusa noi non gli chiediamo scusa perché l'abbiamo sempre incitato quando uscita da criticarlo per la prestazione brutta lo criticavamo ma l'atteggiamento è stato sempre d'esempio, da simbolo per tutti voglio dire un'altra cosa e poi andiamo sulla bella notizia Olivier Giroud, Olivier Giroud ragazzi è arrivato si diceva ma questo non segna mai sono andato a vedermi le medie gole ve l'ho detto subito mi hanno sorpreso perché segna un gol quasi ogni partita quando gioca segnava, adesso vediamo al Milan i numeri cosa dicono professionista esemplare, ha vinto tutto ha dato peso all'attacco è stato sfortunato per la positività e poi per il mal di schiena in queste settimane non sentite di ogni è un brocco, il Chelsea se l'ha fatto andare via figurati perché, perché alla fine è un brocco hanno anche dedicato un video su questo aspetto perché è facile parlare poi ma bisogna parlare anche prima non segna mai questo ragazzi ha fatto tre partite quattro partite in campionato in totale 307 minuti quindi tre partite tre gol un gol ogni 102 minuti in campionato tradotto questo quando gioca segna se avessimo avuto l'anno scorso Giroud avremmo risolto tanti problemi quelli che abbiamo dalla nostra parte teniamoceli buoni, teniamoceli stretti e incitiamoli è vero che poi quando si fanno male tutti si inizia a vedere tutto un po' annebbiato, tutto nero però le cose buone valorizziamole non buttiamocene giù valorizziamo Giroud ragazzi ci darà tante 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 soddisfazioni lo abbiamo visto e l'abbiamo detto prima della partita di ieri perché parlare dopo è troppo facile Giroud ha avuto una palla ieri la buttata dentro Giroud ha peso e adesso migliorerà ulteriormente anche di condizione e ci darà ulteriori soddisfazioni ragazzi valorizziamo i nostri giocatori se c'è da criticare qualche aspetto deve essere sull'atteggiamento Giroud ha avuto un atteggiamento sbagliato mai Giroud ha dato poco ha dimostrato di non tenerci mai e quindi Giroud va tifato va valorizzato perché è una grande risorsa e attenzione perché questo è un aspetto importante alla lunga diventa molto importante la bella notizia e tutti vogliono bene a Giroud tutti vogliono bene che è entrato benissimo tutti vogliono bene a Castiglieco ragazzi questi sono i giocatori che devono essere d'esempio per tutti ora ieri per non lasciarci per non perderci nulla per non farci mancare nulla si è fatto male Rebic quando si è fatto male Rebic che tra l'altro fino a quel momento era il migliore aveva detto no ragazzi anche questa la bella notizia che è arrivata poco fa dal Milan è che gli esami svolti oggi hanno escluso lesioni capsulo-legamentose non c'è una lesione e questa è una notizia molto buona perché avrebbe portato il giocatore fuori per un tempo più lungo il giocatore verrà valutato quindi giorno dopo giorno e questa è una notizia importante non è un infortunio serio fortunatamente e quindi Rebic vediamo quando può rientrare più prima che poi e questa è un'altra bella notizia perché Rebic è un giocatore fondamentale ragazzi io ho vibrazioni positive non mi nascondo dall'inizio ha maggior ragione a questo punto dico che ha maggior ragione se recuperiamo poi delle pedine fondamentali adesso recupererà Bakayoko vediamo Rebic vediamo qualcun altro io credo che questo possa essere il nostro anno godiamocelo viviamocelo con il rosso nero che scorre nel sangue e andiamo a gettare il cuore oltre l'ostacolo questi ragazzi meritano soltanto applausi e davvero seguiamo l'esempio di Castiglieco scrivetemi che cosa ne pensate lasciate tanti like qui sotto per questi ragazzi iscrivetevi qui se non l'avete ancora fatto e un bel sospiro di sollievo anche per il nostro soldato Rebic un altro che quando va in campo mette sempre l'anima ragazzi forza 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 vediamo poi oggi che cosa succede andate a vedere le pagelle di questa mattina ci tengo ve le linko qui sotto grazie ragazzi per me è solo grazie ragazzi e spero che anche qualche d'un altro che magari tentenno un po' su certi discorsi vada a mettere quella firma ci credo poco ma la speranza è l'ultima a morire un abbraccio